Solo una precisazione tecnica, per facilitare l'ascolto e dare più opportunità a Christopher di poter parlare, abbiamo adottato il sistema che lui tiene le cuffie e gli auricolari e lui sente la sua voce mentre parla, mentre in sala verrà dato l'audio delle traduttrici che stanno qui dietro e che ringraziamo. Quindi cerchiamo di vivere questa traduzione in simultanea nella speranza di riuscire a vivere bene la cosa, diversamente cambieremo. Quindi speriamo che non preoccupatevi che voi sentite una voce femminile, sono le traduttrici che sono dietro qui. Buongiorno. Vorrei poter parlare la vostra bellissima lingua, purtroppo non la parlo, ma comunque comunicheremo tramite gli interpreti. È un dono particolare per me essere qui con voi a mistero grande. E vedere direttamente un'esperienza molto speciale, qualcosa che sono riuscita a capire grazie al suo grande dono. Aiutare le persone a vivere la teologia dei loro corpi. tutti. Avete ricevuto questo testo? Bene. Seguiremo questa scaletta e questo ci aiuterà a comunicare meglio il messaggio. Ho invertito l'ordine però delle due tematiche che tratterò nella mia relazione. Ho pensato che fosse importante per noi capire subito il corpo maschile, femminile, la profezia della verità, della bontà e della bellezza. E vorrei quindi parlare prima di questo tema e poi in secondo luogo parleremo più direttamente della teologia del corpo di San Giovanni Paolo II. Cosa significa che i nostri corpi sono profezia di bene, bontà, bellezza e verità? Vorrei iniziare condividendo con voi una storia. Una giovane coppia, molto innamorata. Era una bella serata estiva, piena di stelle nel cielo. Decisero di andare in macchina, in campagna, per trovare un luogo tranquillo dove potessero esprimere la loro passione e il desiderio l'uno per l'altro, tranquillamente. Quindi sono andati in una zona collinosa, hanno trovato una collinetta tranquilla, poi hanno tirato fuori una coperta dalla macchina e hanno cominciato a esprimere la loro passione l'uno per l'altra. Ma non sapevano che si trovavano sul terreno di una parrocchia, di quel villaggio di campagna. Un vecchio monsignore ha visto questa coppia che si dirigeva verso l'alto della collinetta e il sacerdote ha deciso che avrebbe voluto fare una piccola passeggiata e pregare. Quindi tranquillamente si avvicinò alla coppia, la coppia che stava esprimendo il proprio amore e la propria passione l'uno per l'altro. Non sapevano, erano assolutamente ignari del fatto che qualcuno li stava osservando, fin tanto che hanno sentito il sacerdote dire psst, ehi! La coppia è molto interdetta di trovarsi questa frangente ed è anche più interdetta perché si è trovata a guardare, diciamo, il monsignore. E quindi si aspettavano delle parole di rimprovero, i due innamorati. Invece il sacerdote gli fece una domanda e la domanda era la seguente. Ditemi, quello che voi state facendo adesso, cosa ha che vedere con le stelle? E su queste parole il sacerdote ritornò alla parrocchia, lasciando la coppia molto interdetta a riflettere su questo quesito che gli era stato rivolto. Cosa la passione sessuale ha? L'eros, se vogliamo, questo è un altro modo di esprimerlo e parleremo molto dell'eros questa mattina. Cosa ha che vedere la passione sessuale, l'eros, con le stelle? Qual è il nesso? E cosa intendiamo quando parliamo delle stelle? Le stelle sono un simbolo per noi dell'infinito. E quello che noi abbiamo appreso nella trilogia del corpo di Giovanni Paolo II è che questo desiderio molto forte e nobile che noi sentiamo nei nostri cuori, nella profondità del nostro cuore, non è solo un desiderio di unione fra due esseri umani. ci porta molto al di là di questa dimensione. L'eros, diciamo, fa parte della corrente della sessualità umana, ma ci dischiude una porta verso qualcosa di molto più importante, ci apre a qualcosa che ha una dimensione infinita. se noi abbiamo il coraggio di guardare nel profondo del nostro cuore, scopriremo che l'eros è un desiderio per le stelle, è un desiderio profondo, un desiderio profondo di infinito. è un'immagine che io amo usare per descrivere quello che ci insegna Giovanni Paolo II. Io dico normalmente che Dio ci ha dato l'eros per essere come il combustibile di un razzo, di un missile che ha il potere di lanciarci verso le stelle, verso l'infinito. Il dramma qual è? Che tramite il peccato originale i nostri motori dei razzi si sono in qualche modo invertiti, non ci puntano verso le stelle, ma puntano verso noi stessi nella nostra dimensione frammentata e nella nostra caduta. Cosa succede quando, se voi lanciate un razzo e i motori non sono orientati nella direzione giusta, allora si finisce con l'andare a sbattere e a distruggersi, ci si autodistrugge. Questo è il motivo perché molte persone, e mi metto nel mezzo di questi, andiamo nel mondo a cercare, diciamo, a guardare la felicità, la ricerca della felicità, invece di trovare la felicità, invece di trovare un appagamento, invece di trovare la gioia, troviamo dolore, sofferenza, disperazione. Questo è il motivo che spiega questa nostra direzione sbagliata che abbiamo dato al motore dei nostri missili, razzi, ma non dobbiamo prendercela con i razzi o prendercela con l'Eros. Cristo è venuto al mondo, non per condannare coloro che hanno questa direzione sbagliata, ma per riorientare questi motori verso la direzione delle stelle. Per aiutarci a meglio approfondire il legame con i nostri cuori, con questo senso di desiderio forte, profondo, erotico, vorrei che voi riflettiate su un momento della vostra vita in cui il vostro cuore era stato trafitto da qualcosa di così stupendo, magnifico, che vi ha fatto in qualche modo sentire quasi la sofferenza per questa bellezza. Potete pensare a un momento nella vostra vita in cui avete avuto questo tipo di esperienza, di percezione. Forse si è trattato di una notte stellata, forse in presenza di una bellissima vetta in montagna, o forse riflettendo sulla bellezza di un fiore, forse un sorriso che vedete sul volto dell'altro, quindi un'esperienza di bellezza che vi trafigge, come se si trattasse di essere trafitti da una freccia, vi fa quasi piangere, vi toglie il respiro, rimanete senza fiato. C'è un uomo in America che vorrei presentarvi, e lo chiamiamo il tizio del doppio arcobaleno. E vorrei mostrarvi un video di un uomo che consente alla bellezza di trafiggere il suo cuore, e il suo cuore è sanguina per questo. Lo sentiamo che si lamenta, lo sentiamo che piange, e quando piange, vedendo questo doppio arcobaleno meraviglioso, comincia a piovere. È come se Dio piangesse con lui. Non so se gli interpreti riusciranno a sentire l'audio del video, quindi gli dirò agli interpreti quello che dice la persona nel video, e non esagero. Oh Dio mio, è un doppio arcobaleno, in tutto il cielo è coperto, una cosa straordinaria, mamma mia. Ho un doppio arcobaleno, che è meraviglioso, è stupendo. E a un certo punto dice, sembra quasi un arcobaleno triplice, e poi fra le lacrime si chiede, cosa significa? Cosa significa? Vediamo il video insieme, e facciamoci questa domanda, cosa significa? Sette un giro cambaleosse, come la scudia come la stessa di occupa, un giro cambale, è un giro cambale da mano come la stessa, facciamociustedne. Sette grosse belleえるuna, eccoche sinfulamente in a parteind Alexa. Oh my god! Woo! Oh my god! Wow! Woo! Yeah! Oh my god, look at that! It's starting to even look like a triple rainbow! Oh my god! It's full on double rainbow all the way across the sky! Oh my god! Oh my god! What does this mean? Oh my god! Ah! Oh my god! It's so bright! Oh my god, it's so bright and vivid! Ah! 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 It's so beautiful! Questo è molto popolare negli Stati Uniti, più di 50 milioni di contatti su YouTube. Due milioni di questi contatti sono venuti da me perché io amo molto guardarlo questo pezzo, questo video su YouTube e ve lo spiego perché mi piace guardarlo. Benedetto XVI ci dice che un santo è una persona che ha consentito alla bellezza di Dio di trafiggere il suo cuore così profondamente che noi ne siamo trasformati dalla bellezza di Dio all'interno. Essere un santo significa essere coinvolto, preso, catturato dalla bellezza di Dio. In tutta la bellezza del creato c'è un segno che ci indica la bellezza del creatore. Vedete la citazione 1A del vostro documento. Benedetto XVI dice che la bellezza autentica dischiude il desiderio del cuore umano, il desiderio profondo di conoscere, di amare, di andare verso l'altro, verso l'oltre. Se noi accettiamo che la bellezza ci tocchi intimamente, che ci ferisca, che ci apra gli occhi, allora riscopriamo la gioia della visione, della capacità di cogliere il senso profondo del nostro esistere. Ricordate il tizio del doppio articobaleno si è chiesto cosa significa questa bellezza che ci schiude a questa profonda domanda del significato della nostra esistenza. E a quel punto riscopriamo il mistero, il mistero grande, il grande mistero di cui noi siamo parte. Dobbiamo avere il coraggio di far sì che la bellezza possa trafiggereci, ci possa aprire il cuore. Dobbiamo avere il cuore di percepire questo desiderio profondo del nostro cuore per la bontà, il vero e la bellezza. E se lo facciamo, capiremo che i nostri corpi sono una profezia, una profezia della verità ultima, della bontà ultima, della bellezza ultima. Noi tutti desideriamo la verità, nessuno ama sentirsi raccontare delle menzogne, noi vogliamo la verità. Questo è l'Eros. Noi desideriamo quello che è bene, a volte scegliamo diversamente, scegliamo quello che non è bene, anche in quel caso continuiamo a desiderare quello che è bene. San Tommaso d'Aquino dice che quando noi pecchiamo siamo alla ricerca di qualcosa di buono, però non riusciamo a cogliere il bersaglio, come un arciere che dirige le sue frecce ma non coglie il bersaglio. Vogliamo qualcosa di buono, però non cogliamo il bersaglio, lo falliamo. Quindi l'essere umano è fatto per la bontà, per la verità e per la bellezza. Quindi queste tre cose, la verità, la bontà e la bellezza, l'Eros è il desiderio della verità, della bellezza e della bontà. Quindi non dobbiamo confondere i nostri desideri più profondi e nobili e erotici con le distorsioni culturali della lussuria, della concupiscenza. Cioè che è l'Eros invertito, l'Eros a rovescio quando i nostri motori dei razzi sono puntati in una direzione sbagliata. Sono in qualche modo distorti, quindi siamo diretti verso qualcosa di negativo. Vediamo la citazione 2A dal libro di Giovanni Paolo II, La teologia del corpo. Se noi ci fermiamo alla concupiscenza, noi non sperimentiamo quella pienezza dell'Eros, che implica un impulso diretto verso l'alto dello spirito umano, verso quello che è vero, buono e bello. Così che quello che è erotico diventa anche vero, buono e bello. Giovanni Paolo II ci dice che questo Eros profondo, questa pienezza dell'Eros, l'esperienza piena dell'Eros, questo desiderio inquieto ci definisce come esseri umani, questo desiderio profondo erotico, che è stato chiamato dai padri della Chiesa la capacità dei, la capacità di arrivare a Dio. Non penso che sia questa l'interpretazione che noi diamo oggi all'Eros. Voglio chiedere a tutti, quanti di voi sono cresciuti in una casa cristiana, in una famiglia cristiana? Alzate le mani, alzate la mano. Quanti di voi se la sentono di dire che nella vostra, durante gli anni della crescita, vi è stata una conversazione aperta, normale, sana, su quella che è la bellissima, meravigliosa, glorioso piano relativo al desiderio sessuale di Dio. Alzate la mano se questo ha fatto parte della vostra educazione a casa. Uno, due, tre persone, tre persone, quattro, cinque, cinque persone. Ci sono, direi, cinque, seicento persone in sala? Ecco, l'un per cento, l'un per cento di noi è stato allevato e cresciuto con questa visione splendida del piano di Dio per quelli che sono i nostri desideri più profondi. Quando si tratta della fame, la fame, la brama che ci definisce come esseri umani, il 99% di noi è stato allevato e cresciuto sulla base del Vangelo e della dieta del digiuno. E questo non è cristianesimo, però. Gesù non ci invita a fare il digiuno. Ci dice, benedetti sono coloro che hanno fame, che hanno sete. Venite a me, tutti coloro di voi che hanno fame, che hanno sete, venite da me. Tutti coloro di voi che hanno questo desiderio così profondo d'amore, di gioia, di realizzazione, venite da me. Perché io sono il pane della vita, voglio alimentare, voglio sfamare questa fame. Buona parte di noi non capiscono che questo è il cristianesimo. E quando noi intendiamo il cristianesimo come una dieta del digiuno, quando ci viene data soltanto una serie di regole da seguire, e sembra che queste regole non ci dicono altro se non di reprimere i nostri desideri. Non pensate a queste cose, non provate queste cose, seguite le regole e allora sarete un buon cristiano. Ecco, se questo è il nostro modo di intendere il cristianesimo, c'è poco da stupirsi se poi noi abbracciamo quello che è il Vangelo del fast food, cioè la promessa della cultura secolare laica di gratificazione immediata per quelli che sono i nostri desideri erotici. Ma non è altro che fast food. Sicuramente avrà un buon sapore. Ma se mangiamo solo questo, non saremo sani. Alla fine ci ammaleremo. E' quello che mi è successo quando andavo all'università, durante gli anni dell'università. Io sono stato allevato sulla base di questa dieta del digiuno, pensavo che questo avesse da offrire la chiesa e ho pensato se questo è il cristianesimo non mi interessa perché io ho fame. Datemi qualcosa da mangiare, ho fame. Ecco, il fast food era disponibile ovunque. Capite quello che voglio dire quando dico fast food, no? Quindi mi sono ingozzato di fast food. E bisogna essere sinceri, quando si ha fame il fast food è buono, ha un buon sapore. E quindi ho mangiato e mangiato. E poi ho iniziato ad avere un po' di mal di pancia. Durante gli anni dell'università ricordo di essere caduto in ginocchio. Erano anni che non andavo a messa, non avevo la fede. Però ho pensato se Dio esiste, beh, se esiste ho qualche domanda da fargli. Ero molto arrabbiato con Dio. Allora gli ho detto, Dio se esisti dammi un segno. Fammi capire perché mi hai dato tutti questi desideri. Adesso mi devi far capire che cosa ne devo fare. Perché questi desideri che mi hai dato, stanno cacciando me e tutte le persone che conosco in un sacco di guai. E provocano tanto dolore. Tanta sofferenza. Cosa devo fare di tutti questi desideri? Gesù disse, cerca e troverai. E quindi ho cercato. E ho cercato. E ho cercato. E nel 1993 ho scoperto un qualcosa che si chiama Vediamo se riesco a dirlo io in italiano. L'ho scritto. Teologia del corpo. La teologia del corpo scritta da Giovanni Paolo II Ricordo di averlo letto per la prima volta questo documento Sapete che non è facile leggere direttamente un lavoro di Giovanni Paolo II Quindi avevo da una parte un dizionario di filosofia, dall'altra parte di teologia E poi davanti a me la teologia del corpo E ho letto, e ho letto, e ho letto E le parolone che non capivo le cercavo nei dizionari di teologia e di filosofia Perché sapevo che quello che diceva Giovanni Paolo II era così importante per il mio cuore Mi stava dicendo, queste sono le mie parole, però esprimono quello che mi comunicavano le parole di Giovanni Paolo II Mi sembrava come se stesse parlando direttamente al mio cuore Come se Giovanni Paolo II ed io stessimo in conversazione mi stesse dicendo Christopher, tu pensi che il cristianesimo non sia altro che una dieta del digiuno Tu pensi che Gesù vuole che tu reprima tutti i tuoi desideri E se pensi che questo è il cristianesimo C'è poco da stupirsi che poi tu ti sia ingozzato di fast food Però se tu avessi portato la tua fame a questo fast food Beh, se tu hai fatto questo sicuramente hai mangiato del cibo buono Però poi ti sei ammalato E questo mi ha fatto riflettere sul mio dolore E poi mi ha detto Questa è la mia immagine, il suo messaggio Mi ha detto, guarda Il cristianesimo non è dieta del digiuno Bensì un invito a un banchetto, una festa di nozze Alla realizzazione del tuo desiderio Al di là, oltre tutto ciò che tu possa pensare e immaginare Giovanni Paolo II mi ha quindi introdotto Alla tradizione mistica della Chiesa E mi ha detto Tutti siamo chiamati ad essere mistici Questo non vuol dire Che a tutti verranno le stigmate No, non è questo che vuol dire Non tutti saremo Padre Pio Ma ciascuno di noi è chiamato Ad entrare Nel mistero grande Il mistero grande Siamo chiamati ad entrare in questo grande mistero Siamo chiamati ad aspirare a questo mistero d'amore Aprire quindi il nostro desiderio a questo banchetto d'amore infinito Siamo chiamati ad una festa di nozze Questo ha trasformato per sempre la mia vita Sapevo all'epoca All'epoca avevo 23, 24 anni Sapevo già che avrei trascorso il resto della mia vita A studiare questa teologia del corpo Per poi condividerla con il mondo E così ho avuto il miglior lavoro che avrei mai potuto immaginare Posso semplicemente rivolgermi alla gente affamata E dirgli dove trovare del buon cibo Una volta ho sentito dire Che l'evangelizzazione Vuol dire Una persona affamata Che dice a un'altra persona affamata Dove trovare del buon cibo Ed è questa la teologia del corpo Ci offre del buon cibo Cibo gustoso La tentazione tuttavia Consiste nel pensare Che siccome siamo stati avvelenati da un cattivo cibo Tendiamo a pensare che la nostra fame Sia un qualcosa che non va bene La tentazione è quella di pensare Che il corpo è un male La sensualità è un qualcosa di cattivo Di malvagio Di non sacro Vorrei citare Papa Francesco La citazione 2b Ci dice Francesco Il rifiuto delle distorsioni della sessualità e l'erotismo Non dovrebbe mai condurci ad uno svilimento O alla negazione della sessualità e dell'eros Quando l'eros è sublimato O potremmo dire Quando i motori del nostro razzo Sono puntati nella direzione sbagliata Ecco dicevo Questo diventa una Sublimazione Diventa un'affermazione pure genuina Rivelando di quali meraviglie è capace il cuore umano Il vostro cuore è capace di meraviglia E noi viviamo questa meraviglia Nella misura in cui abbiamo il coraggio Di sentire Quelli che sono i nostri desideri più profondi Il nostro desiderio di verità, di bontà, di bellezza Vi è un'unione infinita d'amore Per la quale noi tutti siamo stati creati Il nostro corpo è profezia di questa unione eterna Il nostro corpo proclama questa unione eterna Come ha detto Antonio all'inizio di questa sessione mattutina La Bibbia comincia con il matrimonio tra uomo e donna Nel giardino di Eden E finisce con il matrimonio tra Cristo e la Chiesa Nella rivelazione, nell'Apocalista E nel centro del libro c'è il Cantico dei Cantici Quella bella poesia d'amore erotica Che troviamo nel centro, al cuore delle scritture E poi in tutta la Bibbia vi è questo racconto Il racconto di questa storia d'amore Papa Francesco dice Che se non sappiamo di far parte di questa storia d'amore eterna Non sappiamo assolutamente nulla di ciò che è la Chiesa Di ciò che è il cristianesimo È un invito a questo eterno matrimonio A questo eterno unione Siamo stati creati per un qualcosa di infinito E l'obiettivo della vita cristiana Non è quello di uccidere il desiderio L'obiettivo consiste proprio nella profondità del desiderio L'obiettivo di una vita cristiana attraverso la grazia di Dio Perché non lo possiamo fare da soli Consiste nell'apprendere Grazie attraverso la grazia di Dio E di ridirigere i motori del nostro razzo Verso le stelle Prendete la terza sezione del documento Che vi è stato distribuito Intitolato Reindirizzare il desiderio Poche parole prima di fare una pausa Leggiamo qui che siamo stati creati per l'infinito Ma noi manchiamo il bersaglio E questo è il peccato Quando cerchiamo la soddisfazione Nelle cose finite Quando cerchiamo di realizzare la nostra soddisfazione Mirando le cose finite Troviamo soddisfazione? Ditemelo Sì o no? No No Se noi cerchiamo di realizzare appunto Il nostro desiderio di infinito E puntando le cose finite Non siamo soddisfatte Non siamo soddisfatti Allora ci sono tre punti Che suonano bene in inglese Non so se suoneranno bene anche in italiano Ci sono tre possibilità di scelta Possiamo essere o stoici O dipendenti O dei mistici aspiranti O aspiranti mistici Cosa fa lo stoico con il desiderio? Lo stoico reprime il desiderio Perché pensa che sia un qualcosa di cattivo E molte persone pensano che questo è il cristianesimo Ma non è così E il dipendente che cosa ne fa del desiderio? Il dipendente Prende quel desiderio di infinito Però mira verso un qualcosa di finito E la cosa finita non soddisfa mai E quindi il dipendente pensa di aver bisogno di più E più E più E più Di quel piacere finito Potrebbe essere l'alcol Potrebbero essere Gli stupefacenti Potrebbe essere il sesso Potrebbe essere il denaro Ci sono tante cose finite A cui ci rivolgiamo Per trovare soddisfazione Di questi desideri Del desiderio per l'infinito Tutti siamo chiamati Ad essere dei mistici Degli aspiranti mistici Siamo tutti chiamati Ad apprendere come dirigere Il nostro desiderio Secondo appunto Il desiderio di Dio Per poter raggiungere Il nostro destino E questa è la vita cristiana Prendiamo la citazione 3A Di Benedetto XVI Il desiderio profondo dell'uomo Per l'infinito È come una firma Impressa col fuoco Nella sua anima e corpo Da parte del creatore stesso La sete del cuore E il desiderio del corpo Non possono essere eliminati In tal modo L'uomo Si estende Inconsapevolmente Alla ricerca dell'infinito Ma in direzioni sbagliate Nella droga Nella sessualità Vissuta in modo disordinato Nelle tecnologie totalizzanti Nel successo ad ogni costo E anche in forme ingannevoli Di religiosità Anche le cose buone Che Dio ha creato Che ha creato come strade Che conducono a lui Spesso corrono al rischio Di essere assolutizzate E quindi diventano idoli Che sostituiscono il creatore L'amore tra l'uomo e la donna L'unione sessuale Quando i due diventano un corpo solo Una carne sola Questo è un mistero grande Quello che state facendo qui Cosa ha a che fare con le stelle L'amore tra l'uomo e la donna Ci deve lanciare Inteso per lanciarci verso le stelle L'amore tra l'uomo e la donna È una straordinaria icona Un segno che ci deve dirigere Indirizzare verso l'infinito Ma noi compiamo un grande errore Quando miriamo il nostro desiderio Per l'infinito Verso quel segno Quando lo facciamo L'icona diventa un idolo Ora Tutta questa è una teologia interessante Perlomeno spero che lo sia Ma come lo si traduce in vita? Come lo viviamo? Cosa significa diventare desiderio per Dio? Cosa significa mirare i nostri motori Verso le stelle? Abbiamo bisogno di poeti Di artisti Di musicisti Per aiutarci a comprendere Che cosa significa tutto questo E che aspetto ha E quindi vorrei concludere Questa presentazione Mostrandovi Una clip di un concerto Di una delle mie band Dei miei musicisti preferiti Spero che in Italia Conosciate Gli U2 Alzate la mano Se conoscete gli U2 Banda irlandese Ottimo Perfetto Io amo Amo questa band Li seguo Da quando avevo 13 anni A partire dalla metà degli anni Ottanta E anche prima di avere la fede La loro musica mi parlava Non avevo idea che Bono Il cantante È un uomo di fede Crede davvero Che Gesù sia il figlio di Dio Alcuni anni fa Ha rilasciato un'intervista L'intervistatore Non era in grado di capire Come La rock star Più importante al mondo Potesse essere stato fedele Alla propria moglie Per oltre 30 anni Da oltre 30 anni E quindi gli disse Spiegamelo Com'è possibile Che tu sia rimasto fedele A tua moglie Ci sono donne E ad ogni concerto Che vogliono Fare sesso con te Ma tu sei stato fedele A tua moglie Per 30 anni Com'è possibile E lui Ha risposto dicendo Adesso te lo spiego Ha detto Quando io canto Dell'amore erotico Innanzitutto Canto Raccontando mia moglie Ma per me Vi è un momento Nella musica In cui Il desiderio Erotico Segue E traduzione Cioè Crea questo nesso Tra le cose Di questo mondo E le cose Di un altro mondo Cioè in quel momento Un istante Nella musica In cui il mio desiderio Il mio desiderio erotico Mi lancia Verso le cose Dell'infinito Le cose vere Belle Buone Di Dio Verso il cielo Quindi voglio mostrarvi Un momento Un istante In un concerto In cui Vediamo Questo Che succede A Bono Vox Proprio lo vediamo Succedere Accadere Nel suo cuore Quando All'inizio Vedrete che Bono Sta cantando Una canzone Dedicata alla moglie All I want is you Desidero soltanto te Tutto ciò che voglio Sei tu E' una canzone Che racconta La fedeltà Tra un uomo E una donna Lo sentirete Cantare Così Una canzone Di fedeltà Rivolta a sua moglie Però poi A un certo punto La canzone cambia Da una Canzone Che parla Di un matrimonio Terreno Diventa una canzone Che parla Di un matrimonio Con Dio Il titolo è Where the streets Have no name Dove le strade Non hanno un nome Sentite L'organo Poi la chitarra E poi Vedrete Osservate Cosa succede Al desiderio Di Bono Il grido Del suo cuore Passa Da questa dimensione Verso le stelle Parte come un razzo Guardate Sapete come sta facendo Bono qui Ci sta insegnando Come pregare Ci sta insegnando Come pregare Perché i padri Della chiesa Ci dicono Che la preghiera Nulla È semplicemente Trasformarsi In un desiderio Ardente di Dio L'eros È una profezia Una profezia Dell'unione eterna La nostra unione eterna Con Dio I nostri corpi I nostri corpi Dicono questo Il corpo di un uomo Non ha senso In quanto tale Il corpo di una donna Di per sé Non ha alcun significato Ci vediamo Quando i due Diventano Un'unica carne Questo è il mistero grande Indica quello che è Il matrimonio eterno Di Cristo Con la Chiesa Con questi tre D Sul documento Vediamo Il tre D Nonostante tutte le impressioni Diffuse Al contrario Dobbiamo imprimere Questa verità Nelle nostre anime E permettergli di stabilirsi All'interno del nostro corpo Il cristianesimo È la religione del desiderio La religione che riscatta l'eros E i suoi santi Sono coloro I quali hanno avuto Il coraggio Di sentire L'abisso del desiderio Nelle loro anime Nei loro corpi E di aprire il desiderio In gemiti della preghiera Pensate a quello che dice Bono che gemeva Quindi apriamo Questo gemito A colui Che solo può guarire Le ferite d'amore Questo è il motivo Per cui i nostri corpi Sono una profezia Della verità Della bontà E della bellezza Di Dio E noi dobbiamo annunciare Tutto ciò Dobbiamo diventare I profeti Della teologia Del corpo Nella cultura contemporanea Questa è la nuova evangelizzazione Invitare il mondo intero A condividere il mistero grande Grazie 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 a tutti Grazie a tutti